We're going up tonight, to kick out every night, to get it if we want, to get everything inside, we're going till the world stops turning while we burn it to the ground in the night. No, non parlare di Gigi. Eccolo! Stavolta! Ma fai proprio schifo. Ma siamo tornati dal panino Cocorino. Allora che cazzo me ne faccio? Adesso ho tornato dal panino Cocorino. Ma fai schifo, dai! Annegati che vi brinno tanto! Ma dai, salta su! Boid! Ma guarda, là c'è un guante! Ah, forse riusciamo a distruggerlo, se ci si arriva. Ma da dove ci si arriva? No, non è vero, non è vero! Non è vero! Ok, devo annegare. Ma c'è lì? Ah, da qua, semplicemente da qua. Non è che c'è molto. Eh, guarda, c'è un altro da distruggere. Ma vuol dire un bel po' fa. Adesso mi distruggo la vita. Quindi, parmone. Ciao! Sì, ti aprivi! Ma dai, Taz, sparati che fai prima. Penso che gioco non è pesati. No, semplicemente perché non ci giochi tu. Altrimenti ti assicuro che non capiresti un cazzo di quello che devi fare in sto gioco. Non ce ne... Ah, sì, c'è la cabina. Come ci arrivo lì sopra adesso? Così. Canino cocorbino. Sennò male che mi hanno messo... Ah, no, non mi hanno messo... Ah, ecco, mi hanno indirizzato però. Cammini in punta di piedi, Taz. Non mi posso finire in punta di piedi. Ecco, ma perché non ho potuto camminare in punta di piedi? Cosa ti dicevamo? Perché tanto è un cocorino. Dai, provaci. Va bene, ragazzi. Mi sicuro che ti sento. Va bene, ragazzi. Quella... Ma... Ma spara tu in bocca. Tu scoppi nelle vene. Oh, è toccato nelle vene. Oh, ragazzi, ce l'ho fatta. Cazzo, sto dicendo che scoppi nelle vene. Ce l'ho fatta, ragazzo. Sono invisibile, ora? Ora sono invisibile. In realtà è l'altro testo, quindi... Sì. Va bene, ragazzi. Forniamo nella cabina. Andiamo a distruggere il manifesto. Nel re del Teo. No! No, è possibile. Quello è... Quello è... Quello è il re del Teo. Andiamo, ragazzi! Volice... Ah! Ci devo arrivare da qua. Devo saltare sulle spuglie. Fantastico. Eccolo! Eccolo! Dov'è! del gioco probabilmente. Bene, ragazzi. Vediamo se riesco ad arrivare su quell'isolotto là. Sì, neanche per idea. Devi distruggere i rubinetti. Qua c'è uno spazzolino. Muori e basta. Quella che fa esplodere. Eh, è vero, è un lavandino. Ah, quella che fa esplodere, dici. E dov'è? Di là, di là. Di là che c'è l'acqua. Porca troia. Ah. Porca puttana. Ah, ecco dove si va. Bene, ragazzi. Siamo arrivati in un punto che neanche noi sappiamo dove siamo arrivati. Abbiamo raccolto 100 panini. Non sappiamo che cosa abbiamo fatto. Ma da qualche parto andremo da so. Uff. That's really. Sì. Ma stava a fare così. signor. Dove siamo finiti adesso? Ah, adesso. Animo, un po' colore. Adesso lo spallo non mi mangia più. Bene, ragazzi, ce ne manca solo uno. Ce ne manca solo uno. Ecco un rutto. 1. Grub. Brè. 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 Ecco. Adesso lo faccio esplodere tutto. V. Nea lì. Nea lì. Allora proviamo l'altro, abbiamo preso quello rosso, non è sbagliato, quello che va in basso. Quello che va in basso, già. Prima ho preso quello che va in alto. Va bene, allora andiamo di qua. Che ho trovato sull'app scolo rosso, mi stanno la curva di salsiccia. Questo si che è una valida alternativa. Ok, adesso stiamo sulla destra, io vedo. Ecco, ce l'abbiamo, ce l'abbiamo stavolta! Oh! Un miracolo devoluto dal cielo. Dal cielo. Abbiamo svuotato il... Finalmente avete capito cosa... Significava quell'inizio. Bravo! Un momento che vola giunto. Dai Dio! Benissimo! Mi stai facendo salire il sangue al cervello. Molto mio. Sette su sette! Perché tu a negare tali? Perché tu a negare tali? Bene ragazzi, quello che vi devo dire è che adesso non è finita. Ah! Eh, non ho capito... Andremo lì? Non so cosa vuol dire. Ci hanno fatto vedere quel punto, quindi noi andiamo a vedere cos'è cambiato. Il sangue al cervello è cambiato qualcosa. Allora, vediamo un po' cosa è successo qua. Ah, no! E' per arrivare al termine! Ma noi non vogliamo ancora arrivare al termine. Ci manca la statuetta di Semmi. Ah! E la statuetta di Semmi, là abbiamo notato una cosa. Non mi ha fatto sapere il cagare. Abbiamo notato che lì... Lì c'è una dinamite, quindi deve saltare fuori per forza qualcosa. Ecco, così anneghiamo bene. Bravo padre! Vatti il file! Allora ragazzi mi salti... Ah! C'era un passaggio segreto se non mi ricordo male. Adesso però dobbiamo andare a pescare dove era un passaggio segreto? Non mi ricordo minimamente. Perché ti vuoi a negare tali? Ah, dove vieni? Non lo ricordo minimamente. Come si deve? Oh! C'è uno da demolire! Adesso... Come questo te la farò pagare? Però io che te la farò pagare indecibile di... Di una donna? Allora, adesso non piaceva molto la donna, sai. Adesso muore così allora. Ciota! Che non c'ho te... Non c'ho te te! Cazzo boiarda! Non è che siamo questi soldi? Che l'è sotto? Che l'è sotto? Eccolo! Che folle! Oh! Sì! Miracle of Life! Miracle of Life! E forse, ragazzi, abbiamo trovato anche l'ultima cosa della quale ci siamo privitati di questo gameplay. Affogarmi! Che è affogarmi! Che è affogarmi! Con tutto me stesso! Va bene, ragazzi! Se abbiamo miracolosamente trovato l'ultima cosa che è qua, sempre... C'è questa zona è la zona critica, voglia di dire. Che è tutto bellissimo! No! È dalla lavatrice stavolta! Dopo, forse... Lo so, è nato utile... Ma... Beh! Perchè non lo so le... Perchè non lo so le... Ah! Ecco! Eh! Sì! Questa volta c'è! Questa volta c'è! Perchè! Perchè troia! Perchè troia! Tanto! Meno male che mi hanno portato qua! No, è da questo là! Adesso si affogga il cuore e sta guandando! Perchè troia! Sì! E con ciò terminiamo, ragazzi! Mi fa salire il sangue del cervello! 6.000! Merdo! Ci l'abbiamo fatto! Viene da piangere! Mi sto commuovendo, ragazzi! Mi sto commuovendo! Mi sto commuovendo! Porca troia! Ha fatto un pelo alla bomba! Mamma mia! Mi prego non prendere la bomba tanto! Vai su! Wow! Uwalebb! Ma che bello! Bene ragazzi! Adesso andiamo al traguardo! Pollice in su se vi è piaciuto questo gameplay! A me non è piaciuto ragazzi! A me è piaciuto tantissimo perché l'ho fatto io! Allora eccoci qua! Commentate e iscrivetevi al channel! Smidiamola! Non finisce qui! Non finisce qui! Cazzo uomo! Perché noi saremo pronti a farvi vedere cosa succede nell'impossibile! Anzi! Prima di finire! Vediamo il filmato! Bravo! Andy! Pro vedi! Perché c'è sta musica in sottofondo? Ti sei mai chiesto come fa sempre a ritornare alla base? Perché gli squaliri dole? Lord Shemus siamo noi siamo noi bene ragazzi ragazzi mi raccomando mettetemi il piace no 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 ancora non è ancora finito ragazzi manca la sfida a tempo mi ero dimenticata mi ero dimenticata complotto allora lì vedremo cosa succede la prossima volta complotto nel frattempo possiamo fare la sfida complotto in questo inferno di momento qual è il prossimo livello? non lo so non c'è meglio che si trova benissimo complotto purca putana purca putana no 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 merda di giuda ho visto a tempo lo slime ma quando ma cosa devo fare io? non so il pari ma devo spaccare il maggior numero di casse possibili tu 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 ah ragazzi ma qua non è a tempo c'è da spaccare il maggior numero di casse possibili ti dico però devi suoccare il maggior numero di casse complotti chi sai quanto PC deve spaccare? ti dico quello che posso sarà un... però forza per me 100 Obiettivo 50 Hai sbloccato una nuova pagina Della galleria Ecco ragazzi abbiamo finito Pollice in su se non vi è piaciuta questa puntata Pollice in su se non vi è piaciuta questa puntata Eeeh Commentate e iscrivetevi al channel Raccomando ragazzi supportateci E ci vediamo alla prossima puntata Con Taz One Ed entreremo qua dall'elefante Ciao ragazzi Ciao